Voleva tornare con l'ex convivente con la quale aveva avuto una figlia oggi 13enne e non riusciva a rassegnarsi alla separazione avvenuta alcuni anni fa. Forse dopo aver ricevuto dalla donna l'ennesimo rifiuto di tornare insieme, ha estratto la pistola e l'ha uccisa, poi si è puntato l'arma la testa ed ha premuto il grilletto. Ora Antonio Farina, 46 anni, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. È accaduto stamani intorno alle 8 e 30 nello studio di un noto avvocato salernitano, Giovanni del Grosso, dove la vittima, Elettra Rosso, 45 anni, lavorava da poco tempo come segretaria. La tragedia si è consumata in pochi attimi nell'appartamento al primo piano dello stabile di via Giambattista Niccolini 9, una traversa che collega il lungomare Colombo e via Trento nel quartiere Mercatello. Secondo le prime ricostruzioni, Farina avrebbe tentato l'ennesimo riavvicinamento alla sua ex compagna, ma dopo il rifiuto di lei l'ha freddata con due colpi di pistola calibro 38 che l'uomo deteneva legalmente. La donna sarebbe giunta allo studio legale intorno alle 8 e 30 e sarebbe stata seguita da Antonio Farina. Una volta entrata nell'appartamento senza suonare il campanello, l'uomo gli avrebbe impedito di chiudere la porta di ingresso e, dopo un breve diverbio, gli avrebbe esploso contro i due colpi di pistola. Da quanto si è appreso, sarebbe stato proprio il titolare dello studio legale e già al lavoro, come di consuetudine di prima mattina, a dare l'allarme dopo aver sentito esplodere i colpi di arma da fuoco. Sono intervenuti gli operatori dell'Umanitas e i carabinieri del reparto operativo e della stazione di Salerno. I due corpi giacevano nel corridoio in una pozza di sangue, lui ancora con la pistola in mano. L'uomo è stato trasportato all'ospedale ed è stato sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia. Sul luogo del delitto sono intervenuti anche i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche, il PM Roberto Penna, il medico legale Giovanni Zotti per un primo esame del cadavere. Secondo i primi accertamenti eseguiti dai carabinieri diretti dal capitano Enrico Calandro, Antonio Farina lavorava saltuariamente e deteneva legalmente la pistola e anche alcuni fucili da caccia. Negli ultimi tempi, sempre secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe più volte minacciato l'ex convivente, tanto che la donna sarebbe stata intenzionata a denunciarlo per stalking. Ma è ancora tutto da chiarire. Di sicuro una tragedia che si è consumata in pochi istanti e che ha lasciato sgomenti quanti conoscevano la coppia e la loro figlioletta.